ciao io e bentornati in minecraft time vi chiederete ormai natale è passato quindi perché ci sono ancora le decorazioni nelle stanze ho questa maglietta qua questa felpa qua il cappello di natale beh è molto semplice mi piace il natale non c'è nessun'altra ragione la scorsa volta che ho fatto un episodio di minecraft time di questo tipo qua avevo praticamente scelto tre commenti diciamo quelli che preferivo maggiormente e avevo costruito quelle tre costruzioni lì soltanto che ci ho pensato mi son detto ho seguito i commenti di solo tre persone quindi probabilmente molte persone che hanno consigliato qualcosa le dovute ignorare per forza quindi quello che faremo oggi sarà completamente differente perché non andrò a costruire i vostri commenti ma andrò a costruire tutti i vostri commenti e appunto fatto come al solito una storia su instagram dove ho chiesto alla gente che cosa volevano costruire e dovrà cercare di costruire più cose possibili di quelle che mi state consigliate il che significa che la costruzione finale sarà completamente incoerente un ammasso di cose completamente senza senso è assolutamente un casino ma è giusto così perché oggi bisogna fare questa cosa qua appunto le regole sono mi darò due ore di tempo per fare questa cosa qua devo seguire ogni singolo consiglio mi sia arrivato da instagram e tra l'altro visto che sono sicuro che qualcuno considera cose non adatte a essere realizzate in video perché ne sono già sicuro al cento per cento mi darò praticamente cinque occasioni in cui posso completamente saltare un consiglio per qualsiasi ragione questo sia ma quindi quindi creiamo un nuovo mondo in creativo lo chiameremo strificiolo perché mi sembra un nome giusto e creiamo un nuovo mondo appena deciso la zona dove inizia a costruire metterò il timer e inizio a leggere commenti perché non ho letto ancora assolutamente niente e quindi vedremo come va siamo in una una forest faccio una mini pianura quindi probabilmente costruiremo qua impostiamo un timer per due ore e appena clicco andrò pure a cercare su instagram quindi 3 2 1 via ok diamo subito su instagram o all'incirca una sessantina di commenti ho messo la storia un'oretta fa quindi non credo che farò tutti questa cosa sicura vabbè una casa al contrario o una barca che attraversa un fiume di lava scegli una delle due una delle due una delle due una casa al contrario mi torna molto più semplice farò una casa assolutamente tranquilla e niente di complesso perché se no non riusciamo vivi per questa costruzione non ho voluto fare niente di troppo complesso ho semplicemente preso una di quelle tipiche casa che costruisce in minecraft e l'ho semplicemente ribaltata e l'ho fatta al contrario ho utilizzato materiali che utilizzeriste all'inizio di minecraft ho fatto una cosa estremamente banale l'unica cosa ho fatto di leggermente diverso e strano è appunto il fatto che visto che una casa ribaltata al contrario oppure aggiunto praticamente una zolla di terra in cima perché comunque la casa è basata sulla terra quindi quando regiri la casa penso ci sia comunque il pavimento e la terra teoricamente comunque questo è il prodotto finale prima costruzione fatta ok con questo ci siamo ci siamo ci siamo siamo una costruzione prossimo messaggio disegna un drago fatto di lasagna o di pizza o di cibo come vuoi basta che sia buono un drago di lasagna di pizza ma che cazzo significa facciamo così aggiungo un un panino gigantesco perché ha detto un drago di cibo facciamo che questa costruzione qua con il passare del tempo avrà in parte l'aspetto di un drago e facciamo che l'hamburger sia facciamo no ecco trovata la soluzione facciamo che il drago sia sottoterra e noi mettiamo soltanto la parte che la testa del drago ovvero un panino che è la testa del drago ha senso non ha senso va bene però almeno è una spiegazione è una perché posso trovare queste scuse qua col cavolo che faccio ogni singola cosa che mi dite diventerebbe impossibile se no quindi come faccio un panino per il panino deciso di fare il tipico hamburger che vedi a giro quindi iniziato praticamente con fare il pane utilizzato il legno di oak base perché mi sembra la cosa più logica del colore più simile al tipico pane che utilizzano per gli hamburger e dopo di che ho cercato di mettere i condimenti dentro e le varie cose carpet verdi come se fossero foglio messo il rosso come se fosse pomodoro è uscito un panino attaccato a una costruzione comunque per il momento già dal secondo commento le cose sono già un pochino nel panico e continuiamo con le prossime robe ok già adesso siamo ok prossima cosa un fagiolo con un cappello che in realtà è una casa per gli omi ma perché dovete essere così specifici e complessi è troppo complesso quindi scelgo soltanto una parte di questo discorso qua quindi un cappello che un cappello che in realtà la casa per gli omi facciamo un cappello che in realtà la casa per gli omi lo mettiamo in cima all'hamburger ok credo abbia senso come cosa facciamo un top hat perché il top è la cosa più semplice da fare e anche se non è molto a tema gnomi col cavolo che faccio un cappello degli gnomi richiederebbe un minimo di gravità un pochino di senso un pochino di roba quindi col cavolo che lo faccio è il cappello con caso di gnomi 2 cerca di fare una cosa di molto semplice quindi mi sono messo semplicemente senso logica né niente a mettere un cappello sopra il panino non è neanche calzato per bene semplicemente appoggiato sopra il panino e l'ho fatto nel modo più banale possibile ovvero ho fatto il cilindro con il fascio bianco attorno messo un pochino la parte la parte che si rigira sulla base e roba del genere se vi chiedete come fa ad essere anche una casa degli ignomi beh basta vedere semplicemente da qua ecco qua questo qua vi fa capire che la casa di ignomi perché dentro ci sono funghi ci sono fiori e da quello che so dovrebbe centrare qualcosa con ignomi non me lo chiedete perché ma è la cosa che mi è venuta in mente ed è la mia soluzione per questo problema ok vediamo come la costruzione per ora non ha un cacchio di senso passiamo al prossimo commento una banana una banana bene tutti sono fissati con il cibo sono molto molto contento la situazione non è che sicuramente non diventerà semplicemente un buffet gigantesco questo questa costruzione qua no no assolutamente non è un problema dove la mettiamo questa cacchio di banana la mettiamo tanto questa casa qua sta venendo inglobata quindi a questo punto inglobiamola al cento per cento mettiamo una banana qua al lato e si va bene ok devo ammettere questa banana qua l'ho fatta parecchio a casa l'ho messa completamente senza una ragione non ho cercato neanche di farla troppo sensata l'importante che desse il senso di banale che ricordasse un minimo una banana e il fatto che mi sconvolge tantissimo che in quattro commenti tre mi chiedessero del cibo sta soltanto peggiorando eh speravo di poter dare tipo iniziazione come diceva un castello quindi potre utilizzare l'idea del castello per fare roba e collegare altre costruzioni una con l'altra no no hanno detto non hanno iniziato con una casa al contrario e poi un drago fatto di cibo perfetto sono davvero contento passiamo al prossimo perché non costruisce una nave mercantile stile ottocentesca perché però a tutta grandezza di maiale ovviamente qualcuno richiede un altro animale un cibo con il capitano ping ma e la sua truppa di maiali mercanti bene nave mercantile di maiali tra l'altro nave mercantile di maiali ok ok no senti facciamo facciamo invece una un pezzo di barca che esce dal resto della costruzione va bene ci accontentiamo di questo e sopra ci mettiamo dei maiali e chi se ne frega diciamo che contando pure tutto il resto aggiungere una barca con sopra dei maiali al mix torna davvero molto difficile visto che siamo sulla terraferma e non c'entra nulla con tutto il resto ma ormai abbiamo capito che purtroppo già dai partenza la base del tutto era completamente fallata quindi nulla potrà funzionare comunque per il resto ho cercato di dare la forma di una barca al lato della casa ho cercato di dare più il senso della barca aggiungendo una vela che funziona fino a un certo punto ma vabbè e dopo di che ho aggiunto dei maiali sopra già la casa originale che abbiamo costruito non si vede più quindi credo che che questa idea per questo video qua sia stata una grande scelta sbagliata prossimo commento speriamo che questo qua un keyblade non c'entra niente non c'entra assolutamente niente un keyblade va bene mettiamo un keyblade il problema è che i keyblade sono un design fatto soltanto di cerchi e cose molto particolari e piccoli dettagli quindi cercare di costruirlo con blocchi di minecraft o fare una cosa assolutamente gigantesca e colossale che cosa che non può stare bene pure anche se il resto della costruzione comunque è piccolo quindi non posso metterci una cosa colossale che trionfa su tutto il resto lo distrugge ho dovuto cercare di fare il mio meglio con quello che avevo molti dettagli ovviamente mancano e anche cercare di fare il piccolo simbolo di topolino in fondo è stato una sfida ok è orribile ma va bene possiamo al prossimo commento una statua di sofflovio questa la passo primo passo che utilizziamo perché col cavolo che faccio una statua di sofflovio fai un drago lo stiamo già facendo è già sotto terra mentre la testa è quel panino lì quindi anche te abbiamo accontentato una stufa logena ok bene ora passiamo da cibo ad elettrodomestici nessuno che mi chiede qualcosa di normale nessuno che mi chiede qualcosa di sensato per il resto ho cercato di dare prendere la prima immagine di google e cercare di costruirla ho messo l'intera costruzione comunque incavata nel terreno perché come al solito cerco di guadagnare tempo e di non spendere tutta la mia vita a costruire una stufa logena perché sinceramente non è quello che voglio fare con il mio tempo però comunque per il resto ho cercato di dare ho messo ho cercato di mettere tutti i dettagli per dare un minimo senso della stufa logena quindi capite che è un pochino un po difficile ok madonna questa stufa logena mi sta facendo venire caldo abbiamo creata così bene funziona così tanto bene che per fortuna devo devo scoprire siamo una stufa logena non credo che possa migliorare da qui in avanti un monumento ai gratta e vinci di pepo ah è scritto con la h quindi intende qualcos'altro con la frase un monumento avere gratta e vinci di pepo mi dispiace non avere gratta e vinci di pepo quindi non posso fare il monumento come come levarsi a questi problemi non so gravi forse un po banale non so se hai visto il film ma tipo una macchina di macchine mortali stile steampunk l'ho visto completamente a caso perché l'altro giorno ero stato buttato fuori di casa detto eh andiamo a vedere qualcosa al cinema quel film lì non mi è piaciuto per niente però possiamo fare una macchina di macchine mortali questa qua abbiamo già costruito praticamente una macchina di macchine mortali quindi sapete cosa faccio prendo questa tutta questa roba qua la alzo di un paio di blocchi e ci creo dei cingolati sotto una base di praticamente una macchina può avere senso può avere senso proviamo a farlo dai spostare l'intera costruzione cercare di mettere la sopra dei cingoli quando di partenza non avevi idea che dovevi farlo non è la cosa più semplice del mondo in realtà già fare dei cingoli per dargli un senso vero e proprio dovresti metterci un bel po di tempo un bel po di dettaglio un sacco di spazio e di grandezza per dargli un vero e proprio senso quindi farlo per una costruzione così piccola e dare un senso a quel poco che abbiamo per ora è parecchio difficile infatti penso che il risultato finale sia molto una cosa realizzata sul momento e improvvisata completamente a caso non aiuta sicuramente con l'aspetto del tutto è semplicemente un ammasso di robe a caso buono questa volta non commento neanche prossimo prossimo messaggio costruisci sora c'è il chile di sora quindi va bene comunque un qualcosa dedicato a kingdom hearts c'è già tutti a chiedere costruzioni di kingdom hearts incredibile un keyblade c'è già madonna santa tutti con le stesse idee o bene per poi mi ha mandato una storia se sei bravo perché non costruisci ti guarda qua con gli stessi colori questo vagone del treno con la stessa scritta trenitalia eh voglio pure i fili merdoso ah ma non posso come faccio poi dove lo metto ormai siamo davvero va bene facciamo un treno tra l'italia lo mettiamo in cima in verticale non mi interessa che non c'entri un cacchio lo mettiamo tipo qua che va verso l'alto probabilmente proprio con questa richiesta qua ha messo gli ultimi chiodi sulla mia barra perché da questo sicuramente non è uscito assolutamente niente di positivo tutte le cose mi sono state chieste finora all'incirca aveva un senso quello che ho costruito quello che andremo a fare adesso assolutamente non funziona perché ho cercato di dare colori ho cercato di dare un senso alle cose ma un treno se non lo fai abbastanza grande o se non fai un determinato stile soprattutto di questo aspetto qua torna davvero davvero molto difficile soprattutto farlo anche in verticale come ho deciso di farlo io quindi non è neanche nient'altro del contesto di tutta quell'altra roba per farti capire che è un treno e devo dire che il risultato finale è davvero brutto Beh sì dai è un treno fai una postazione da gaming enorme perfetto facciamo una postazione da gaming ovviamente perché qua c'è appunto lo spazio per una per una postazione da gaming mi sembra assolutamente giusto mi sembra logic ci sta proprio bene qua è a tema con tutta la funzione è perfetto è proprio Che quel che quel treno lì è diventato improvvisamente un case probabilmente il metodo migliore per giustificare quello abominio lì Si almeno questo caso si capisce cos'è già un miglioramento rispetto al treno il treno voglio subito ricoprirlo con altra roba quindi passiamo subito a qualche altro messaggio Gesù ama perfetto questo forse è meglio saltarlo perché sennò sarebbe un pochino Un pochino profano potresti fare qualcosa a tema invernale tipo delle mura gigantesche fatte di ghiaccio che circondano un castello per esempio Ok delle mura ghiacciate non posso metterle in tutto però qualcosa a tema Inverno forse è meglio diciamo che l'obiettivo era cercare di rendere praticamente una parte della costruzione ghiacciata quindi mi sono semplicemente limitato a costruire una punta di ghiaccio Cercare di dare un pochino al senso del del ghiaccio che pian piano ricopra la costruzione e anche un pochino di neve per dare il tema Invernale adesso aspetto soltanto che qualcuno mi dica di dare fuoco alla costruzione e poi abbiamo assolutamente tutto questa truffa qua non sta facendo molto Bene il suo dovere se questa parte qua della costruzione è ghiacciata no Teoricamente comunque c'è pure della neve non si vede molto bene perché purtroppo questa cosa qua è bianca Proprio il resto è un blocco di ghiaccio che sale dal lato della costruzione va bene prossima messaggio costruisci un tempio di monaci non In stile giapponese ma in un altro stile che vuoi te magari steampunk un tempio come faccio a metterci un tempio qua adesso Mi verrebbe un tempio maia ma il tempio maia deve essere praticamente basato sul terreno perché da qua Non riusciremo a fare assolutamente niente facciamo al lato uno dei cingoli qua chi se ne frega tanto non è che deve avere senso sta costruzione ormai E non so perché continua a cercare di dare un senso alla costruzione visto che ormai è Palesemente fuori controllo e non riuscirò mai a salvarla comunque ho cercato di fare del mio meglio per dare il senso di un vero e proprio Mini tempio maia al lato della costruzione non è niente di troppo complessa proprio il tempio più basa che poi costruire in minecraft Comunque cercati di dargli abbastanza cura e dargli un senso con il resto della costruzione fino a un certo punto ovviamente perché comunque Lo stavo costruendo sopra dei cingoli e sopra una stufa allogena ma vabbè questo è il risultato finale La fine è il meglio che ho costruito finora per ora di tutto quello che ho fatto finora probabilmente quello che è venuto meglio il che è Molto a dire visto che è praticamente la cosa più banale del mondo che potessi fare però Vabbè appena mi metto in qualsiasi altra direzione che non sia quella lì tutto comincia a crollare Perché sono troppe cose insensate almeno questo qua copre un bel po' di costruzione e dici a questa cosa qua ha senso però quello sopra Sembra una cosa strana potrebbe essere qualcosa di sbagliato No è proprio una merda tutto un gigantesco cannone fotonico Porca vacca un gigantesco cannone fotonico qua probabilmente metto qua un gigantesco cannone fotonico Sì sì facciamo qua un gigante vabbè proviamo a vedere cosa ne esce fuori finalmente stiamo avendo delle parti Della costruzione che possono già avere un pochino più senso una collegata rispetto all'altra Sicuramente sono tutte cose che ormai non possiamo dare un senso e collegare ovviamente però se fossero state di questo tipo qua Dall'inizio avremmo potuto creare qualcosa di già più sensato tipo un tempio con un cannone fotonico Con un po' il ghiaccio che li cresce sopra e roba del genere abbia avuto senso Ma abbiamo iniziato con cibo case al contrario Kingdom Hearts Comunque visto che doveva essere gigantesco ho cercato di renderlo molto più grande rispetto al resto della costruzione Perché costruzione va messa tra virgolette perché questo resto è semplicemente un ammasso di spazzatura Però almeno questo qua ha un senso e è riconoscibile Almeno è riconoscibile sì dai Non è la cosa più bella del mondo ovviamente l'ho dovuta fare comunque molto in fretta perché voglio cercare di fare il più commenti possibili Ma comunque almeno può sembrare un cannone fotonico Può sembrarlo va bene passiamo al prossimo commento Costruisci un grattacielo oppure una casa sull'albero o più case sull'albero Un grattacielo perfetto Copriamo subito questo treno qua e ci mettiamo su un grattacielo che parte da qua sotto e copre questa parte qua della costruzione qua perché è assolutamente la più brutta Va bene? Ho cercato di fare un grattacielo molto banale niente di veramente complesso ovviamente perché comunque sto cercando di fare queste costruzioni nel più Nel minore tempo possibile e praticamente nel modo più semplificato che riesca a fare quindi non ho costruito niente di troppo complesso ed esagerato Ho semplicemente creato una costruzione che avesse tutti gli elementi di un grattacielo Non fosse la cosa più bella esteticamente ma comunque riesce a dare il senso della costruzione E devo dire che per il resto copre tutte le altre cose che sono orribili della costruzione E in fin dei conti fa il suo dovere perché l'obiettivo era quello e all'incirca ce l'abbiamo fatta Poteva venire meglio ovviamente come costruzione dovevo progettare meglio la base in quel punto li potevo fare un bel po' più di cose con il tetto Però ho preferito tenerlo completamente piatto mentre c'è semplicemente una H sopra tipo Atterraggio dell'elicottero va bene va bene va bene va benissimo va bene va bene va bene va bene Quanto tempo ho? Ancora ben poco Un albero gigante pieno di luci con un villaggio attorno L'ho già fatto lo scorso episodio Praticamente Quindi non lo faccio di nuovo Un castello fantasy tipo il signore dei anelli o su un'isola a volante Perché te non sei arrivato prima? Se arrivavi prima potevo fare tutta una base Potevo creare un senso nella costruzione e cercare di renderla interessante Sei arrivato ultimo Perché tra l'altro ci sono ancora un sacco di altri messaggi Però l'ultimo che posso leggere adesso è cercare di costruire questo qua Quindi sei arrivato tardissimo Sei arrivato proprio alla fine della costruzione Quando devi essere il primo commento Invece sei l'ultimo Per dare il senso di castello fantasy Mettiamo Facciamo qualcosa qua Ormai stiamo costruendo in questa direzione Facciamo qualcosa qua di Vediamo cosa ne facciamo fanno uscire dai Per dare il senso di castello fantasy Ho cercato più che altro di fare una torre fantasy più che altro Visto che il resto della costruzione possiamo considerarlo il resto del castello Non lo so ma vabbè Comunque ho cercato di dare la base della torre Cercando di renderla molto pesante E danno in un certo senso E poi la cima della torre ho cercato di darle Uno stile molto fantasy che ricordasse qualcosa di estremamente Facile da riconoscere E molto diverso comunque rispetto a quello che c'è attorno In modo che non si confondesse né con il tempio Né con il grattacielo Cosa che ci siamo riusciti in parte Ma comunque Resta comunque il fatto che è una cacchio di torre Appiccicata sul lato di un grattacielo Cosa che non è La cosa che vorresti costruire ogni giorno Ma va bene È andata così Questa qua è l'ultima costruzione che faremo oggi Ok L'ho fatto in tempo almeno a costruire quest'ultima parte qua Posso dire Io stavo pensando Visto che sto ancora lavorando al prossimo episodio di Minecraft E quindi non volevo che passasse ancora così tanto tempo Appena che escesse un altro video di Minecraft Oggi volevo far uscire appunto un video di Minecraft E c'avevo l'idea del tipo O faccio un video dove costruisco commenti O faccio una normale build battle Mi sono detto No dai facciamo quello dei commenti Perché alla fine la scorsa volta ne ho presi davvero pochi Ed era piaciuto molto come video Attualmente me ne pento davvero tantissimo È stata la peggiore scelta di oggi Allora Vediamo che cosa si riesce a vedere Attualmente Si riesce a vedere La torre Il tempio Il canone fotonico Il ghiaccio Il grattacielo Il keyblade Parte del treno Parte del cappello La postazione da gaming Una banana I cingoli La barca Ci vede forse qua un minimo della casa Però a questo punto è completamente Inglobata e distrutta Ci vede parte del panino Ma anche questo qua è riconoscibile Non puoi capire assolutamente che cos'è E qualcos'altro Questo è tutto Guarda qua che abominio È assolutamente la cosa più brutta Che abbia fatto in Minecraft finora Penso che se farò altri episodi Di costruisco i vostri commenti Cercherò di fare qualcosa che ha più senso E che sia una costruzione più finita e sensata Sapevo che molto probabilmente oggi saremo finiti sul Trash completo e niente di assolutamente sensato Ma non pensavo fino a questi livelli onestamente Se apprezzate molto la costruzione Vi invito a lasciare un mi piace Una cosa non faccio mai Ho visto che oggi è un giorno speciale E sono sicuro che nessuno metterà mi piace Vi invito a lasciare un mi piace Se vi piace questa costruzione qua Di iscrivervi al canale Di cliccare la campanella Perché è una cosa che va sempre richiesta A fine video Cosa che faccio sempre Sono sempre bravo a dire E sicuramente c'erano un sacco di altri commenti E cose inutili Che potevo andare a controllare Ma visto che volevo per forza scegliere I primi che mi capitavano in mano Completamente random Questo è il risultato finale Ripensandoci ora Era una pessima idea Ma quindi Spero che abbia apprezzato Spero di vedervi Nel prossimo episodio di Minecraft Spero che una costruzione Leggermente migliore Ciao a tutti Ciao a tutti